La sezione è la terra del piave, del montello e del grappa, sono quella realtà, le piave dei cento gruppi della sezione, da Pederanda fino giù alla lotta di Livenza, dove i depini della sezione di Treviso hanno preso una vecchia casa, l'hanno riadattata e l'hanno trasformata in un punto di riferimento per i giovani, soprattutto quelli che hanno in particolare bisogno di sentire accanto a sé l'affetto, la stima, la solidarietà e l'incoraggiamento. L'avevamo detto, l'avevamo detto poco fa, i nostri mani, tanti talenti e fine di cambiare una sola bandiera, signori e altrimenti, non potevano mancare a sempre, non tanto per il rapporto geografico, che non deve costruire, ma perché nel cuore il nostro senso va in chiamice dalla fretta di Alano, in tutta sulla pianura e va a incontrare il montello, ma è là, c'è una corrente forte, è la corrente degli altri, pericolo di morte.